Ebbene sì, siamo quasi ad Halloween ed è il momento di iniziare a festeggiare in qualche modo. Perché Halloween? Halloween in realtà è una festa che non ho mai capito, ma ultimamente sto iniziando a capire che se c'è una ragione per festeggiare qualcosa, perché no? La vita non è così lunga e quindi se c'è un motivo per fare qualcosa in cui comunque ci si diverte, senza esagerare, alla fine è anche bello. C'è tutto il mondo che è come se si sincronizzasse e si mettesse d'accordo nel fare qualcosa. Quindi i film, i videogiochi, i fuori, le decorazioni, tutto è tutto nello stesso tema, quindi è molto molto piacevole. E cos'è che deve essere anche a tema? Ovviamente il modo in cui ci esponiamo all'esterno, a livello interiore e a livello esteriore, una cosa che connette il tutto sono i profumi. Quindi oggi vi parlo di 10 profumi per Halloween. Sono praticamente quasi tutti i profumi di nicchia, ma ve ne menzionerò alla fine anche qualcuno di commerciale, se volete semplicemente andare su Amazon o su Notino o su Fragrance.net o da Sephora a comprarli, ma tendenzialmente trovate questi profumi nei link che vi lascio in descrizione, nelle profumerie che consiglio e anche magari su altri siti. Comunque se trovo i siti insomma in descrizione ve li lascio perché potete dargli un'occhiata. Nessuno di questi profumi è sponsorizzato, sono solo mie idee su quello che potresti indossare ad Halloween. Iniziamo con il numero 10 e il numero 9, che purtroppo non ho in collezione al momento, mi devono arrivare ma non potevo aspettare di fare il video perché ora che esce il video e tutto ormai passa Halloween. E quindi ho detto vabbè intanto ne parlo e poi in caso vi farò vedere su Instagram, seguitemi se non mi seguite, Marco di E97, anche gli aggiornamenti delle cose che mi arrivano. Ed è Core Eterno. Quale profumo di Core Eterno? Che è un brand molto molto carino anche per il prezzo e tutto lo styling che hanno. In realtà quello che preferite perché ad esempio io metterei Punk Motel, quello un po' più stile Halloween, ma c'è anche No Sleep che è pazzesco, soprattutto un po' più femminile. Quindi metterei diciamo più che altro questi due. Mystic Sugar non è male, dipende dal vostro costume, anche dipende da quello che volete fare quella sera, però tendenzialmente Halloween è un momento in cui si esce alla sera, si esce di notte, quindi serve qualcosa che sia particolare, serve qualcosa che si senta, serve qualcosa che sia unico, che abbia un po' questo tema stile Halloween, ma che allo stesso tempo abbia un po' di carattere da poter essere indossato anche durante il resto dell'anno, se no lo comprate e poi cosa ve ne fate. Però vi lascerò anche qualche chicca di qualcosa specifico che è proprio una bomba. Numero 9, Killian. Killian ha di quei profumi che sono pazzeschi e secondo me Black Phantom è un profumo perfetto per questo periodo dell'anno, soprattutto anche per Halloween. È un profumo che mi piace tantissimo, è un profumo famosissimo, incarna l'anima nera dei pirati, un po' gourmand, un po' orientale, un po' caffè, è un po' un accordo che è diventato molto conosciuto e anche cronato e copiato tante volte, ma ne vale la pena. Mentre di Core Eterno è uno slip un po' più fiorito, ma quasi plasticoso e molto particolare. Punk Motel, invece immaginatevi Halloween, sa di quello. Numero 8, ed è un brand che si chiama Wienerblut, e di questo ve ne consiglio due. In realtà vedete, vi sto dando più scelta, in modo che andate a sentirvi lì un determinato brand. Ed è, uno è Club Wasser, l'altro ex voto. Avete sentito parlare tanto di questi profumi sui miei profili, e praticamente Wienerblut crea un po' questi profumi concettuali. E Club Wasser, un po' più... Immaginatevi questa situazione... Ecco, ve la posso descrivere così, perché è inutile che vado a dire note e tutto. La descrizione è questa. Immaginatevi di camminare verso una chiesa, con questa bruma, mattina prestissimo, quasi notte ancora, tutto bagnato per terra, in questo campo, con l'erba ancora incolta, quindi abbastanza alta, bagnata, un po' umidiccia, nebbia, e dovete andare in questa chiesa e a un certo punto pestate col piede questo ramoscello. Il ramoscello, ancora non secco, si spezza ed esce quella linfa verde, quell'odore molto 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 verde, esattamente quello di cui sa. Aggiungeteci un po' di legno, un po' di eleganza, un po' di profumo, e tenete Club Wasser. Pazzesco. E per le persone che indossano qualcosa di un po' più naturale, ma allo stesso tempo, non so, tipo una ninfa o qualcosa così, scambia, questo è perfetto. E invece, per quanto riguarda l'altro, è ex voto. Questo è invece un po' più liturgico, esattamente quello che immaginate, quindi una chiesa, però molto più indossabile a confronto a questo, e questo, vi dico, molto anche bello da inossare durante il resto dell'anno. Nonostante sembri un qualcosa di super particolare, fidatevi, questo è molto molto interessante. Perché sì, dà un po' l'effetto chiesa, ma non è quell'incenso classico che vi immaginate. È un po' una situazione al tramonto dentro questa chiesa, questo legnoso, questo ambiente puro, ma allo stesso tempo, non so, dovete provarlo. Un po' antico, ecco. Numero 7. È un profumo di naso matto, ed è sadonaso. Questo è un profumo che ovviamente ha fatto parlare di sé, ed è un profumo uno dei più particolari che ho, e diciamo che è un extraire parfum, ma si sente tanto, perfetto per queste serate, e aggiunge un po' quel pizzico di stranezza sensuale al costume che volete indossare per Halloween. Ma anche se non indossate nessun costume, semplicemente andate a una di quelle feste in cui sono tutti vestiti, perché lo sapete che per la maggior parte delle persone Halloween è un po' solo la scusa per andare vestiti un po' più nudi in giro, e con un toro un po' più dark, e far finta di essere, vabbè, questa è un po' una narrativa che si creano nella loro testa. Ma se volete fare quella cosa lì, di essere quindi quella cosa un po' più sexy, ma con un effetto non bambola, ma un effetto più, tipo rude, più proprio quasi pornografico, questo è un po' la cosa che serve per voi. Perché inizialmente è molto acidulo, alcune persone ricordano un po' proprio l'idea dell'intimo, o anche l'idea di tipo un bagno di discoteca, o ci sono tantissime idee, è odore di... vabbè, avete capito, e invece poi diventa un po' fiorito, un po' comunque profumato. È un buon profumo in realtà dopo un po'. Non... Dategli una prova. Al numero sei, dell'altro lato della medaglia, invece c'è Acro e The Night. Questo invece è sempre un po' quel genere, stessa cosa, però più pulito. Quindi per tutte quelle persone che invece vogliono, diciamo, sapere di un qualcosa di strano, ma rimanere comunque nell'intimo. So un po' di quell'abbraccio notturno, ma pelle, deodorante, tutte quelle sensazioni che è quasi strano sentirlo, perché non sembra un profumo, sembra proprio tipo l'abbraccio di una persona, ma in un modo quasi un po' creepy da quanto è strano come odore. Quindi qualcosa che... Qualcuno vuole indossare proprio un odore strano. Questo è. Numero 5. È nobile ed è rudis. Questo invece è il profumo ispirato al gladiatore. Quindi per tutti quei costumi o quelle situazioni in cui molto maschili indossate qualcosa di riferito al sangue, perché dà un po' quell'effetto ferreo, quell'effetto divino, quell'effetto di un gladiatore che sta per entrare nell'arena, quindi c'è l'idea della paura, l'idea della terra, del terreno, l'idea del sangue, del ferro, della spada, ma allo stesso tempo un tono un po' rossastro di vino per, diciamo, entrare nell'arena un po' ubriaco per evitare di sentire la paura della morte. Quindi è un profumo pazzesco. Al numero 4 metto Stefanum Berlucca. E qua idem avete la scelta. Me ne do due, secondo me, e sono Mortal Skin e Black Gemstone. Che dire, Black Gemstone è un po' più Halloween, quindi è un po' più scuro, criptico, religioso, ispirato alla pietra nera dove le persone ovviamente venerano questo spazio, ci girano attorno. Quindi ha un chiedi religioso, una connotazione comunque scura, profonda, misteriosa, incensato, legnoso, classico profumo, misterioso, se indossate qualcosa di total black, di scuro, vampirico, qualcosa così ci può stare. Ma c'è anche una versione un po' più particolare che è Mortal Skin che invece è sempre un po' quella cosa ma aggiungeteci un chiedi tipo veleno, un chiedi veleno di serpente, di mandorlato, di dolce, di strano, un qualcosa che dà un effetto di tipo serpe, non so come sperarlo, uno dei miei profumi preferiti di sempre, un qualcosa di dorato, di dolce. Entrambi sono pazzeschi. Numero 3 mi reve arrivare domani, quindi se mentre edito il video il profumo mi è già arrivato, lo vedrete qua in sovraimpressione, se no, vabbè, ve lo faccio vedere comunque in un altro modo. Ed è un profumo di età libre d'orange ed è Ghost in the Shell. È un profumo incredibile, uno di quei profumi proprio fatti con un concetto, un qualcosa di evocativo in mente ed è proprio ispirato a Ghost in the Shell e ha quindi quest'idea di fantasma, quest'idea di protezione, quest'idea di scappare, quest'idea di fuggire, quest'idea di paura, quest'idea di al di là, quest'idea di purezza, comunque quindi latte o qualcosa di bianco, qualcosa di biancastro, qualcosa di fuggente, qualcosa di incredibile, però lui poi ancora di più. C'è anche un altro di età libre d'orange che è ispirato, mi sembra che sia il puttano, o qualcosa del genere, ed è ispirato ai fiori buttati diciamo nel cestino, quindi senti questo odore di cestino, di spazzatura insieme al fiorito, anche quello potrebbe essere qualcosa per non so una sposa cadavere o uno di questi genere di situazioni, però secondo me Ghost in the Shell ci sta un po' di più. Al numero 2 metto tutti i sorcinelli, quindi non c'è un sorcinelli che non vada bene per Halloween, è un brand che secondo me è giusto, diciamo che potete scegliere quello che preferite, secondo me quelli che possono andare meglio sono pioggia debole, un profumo che sa di pioggia, ma veramente di pioggia, un profumo come loves, quindi se ad esempio vi vestite con qualcosa riferito alla chiesa, che sa proprio di incenso liturgico, un qualcosa come reliquia, qualcosa che sa proprio di cripta, ce ne sono tanti, scegliete quello che vi piace e siccome vanno tutti bene. E invece numero 1, e poi vi do qualche idea anche per il commerciale, anche qua potete scegliere quello che volete, è un brand che ho messo al numero 1 apposta, perché è perfetto, ma anche perché è molto difficile da reperire. Questo non so nemmeno io come ce l'ho e probabilmente è difficile che riusciate a trovarli, se riuscite a trovarli bene, se no ci sono tutti gli altri, fidatevi. Questo è un profumo che andrebbe bere solo ad Halloween, io ce l'ho, lo tengo lì, bello da vedere, ma non lo indosserei mai in un'altra situazione, perché sa proprio di tomba, sa proprio di terreno, di terriccio, di umido, di muffa, di lasciato lì, di andato a male, non lo so, non lo so. Poi ovviamente sono tutti comunque molto concettuali, quindi sono profumi che hanno una storia dietro, Tom Stone, questo barancinese ispirato proprio a situazioni in cui la tomba e il cimiteriale hanno un senso, c'è quello ispirato alla tomba piccola per il bambino, c'è quello ispirato a... Ce ne sono tanti particolari. Perfetto per Halloween, per qualsiasi situazione, soprattutto se volete vestirvi da zombie. Per il commerciale in realtà è un po' più difficile, potete andare semplicemente su qualcosa di un po' più scuro, Ancre Noir, potrebbe essere Molecule One, potrebbe essere un Tom Ford Wood, potrebbe essere un Pure XS di Paco Rabanne, un Tom Ford anche Black Leather, Black Orchid, o comunque, insomma, avete capito il genere. Un'altra menzione oraria mi è appena venuta in mente, inizio Wood for Greatness. Potrebbe essere pazzesco se volete un profumo che poi vi dura anche tutto l'anno, perfetto per tutte le occasioni. Magari per qualcosa di un po' più magico, ecco. Ecco qua ragazzi, spero che poi vi sia piaciuto, vi lascio in descrizione tutti questi profumi di cui vi ho parlato e ci vediamo nel prossimo video. Ah, fatemi sapere cosa indosserete. Ciao ragazzi!